Qua. Vieni se è tutto ok. Non si spazza la parola. Sì, se è vero. Sì, se è ok, ok? È passato un altro giorno in Turchia e ogni minuto, ogni secondo, è fondamentale per salvare una vita. Quella giovane vita che deve la sua sopravvivenza proprio ai vigili del fuoco italiani e aretini. Queste sono le immagini del salvataggio. Avevano sentito una flebile voce sotto le macerie. Hanno iniziato a scavare fino a che il giovane è stato tratto in salvo. Intanto un altro salvataggio è in corso. Da un'altra parte, sotto le macerie, altre squadre in cui è diviso il contingente italiano stanno lavorando. Ad oggi sono 60 gli operatori che lavorano incessantemente senza possibilità di alternarsi per salvare altre vite.